Musica Ci rubano le idee, così vice sindaco e assessora ai lavori pubblici Maria Antonia Cucuzza risponde alle 5 mozioni proposte da Fano 5 Stelle sulle barriere architettoniche. Questi sono tutti argomenti che sono già stati abbondantemente trattati anche in ambito di interrogazioni e interpellanze in sede di Consiglio Comunale. Loro parlano delle pedane removibili negli esercizi del centro storico, dico subito che esiste un accordo tra servizi sociali a GFH, sono stati fatti incontri con le associazioni di categorie i primi mesi dell'anno. Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche nei servizi igienici di Sassonia, nello scorso Consiglio Comunale dell'11 novembre sono stati approvati tra le altre cose il finanziamento di 50.000 euro per lavori di riqualificazione di Sassonia. È previsto anche questo bagno di Sassonia che poi verrà dato in gestione, vedremo se ad Aseto o con gara d'appalto a qualche altro ente. Si parla dell'ascensore alle ferrovie dello Stato, anche questo era stato oggetto di interrogazione o interpellanza, non ricordo bene, all'inizio del mandato, quando si stava facendo la riqualificazione della stazione e feci presente che esisteva già un precedente accordo fatto nella legislatura precedente e che in questo accordo le ferrovie dello Stato si impegnava a previa acquisizione, che credo sia già avvenuta, di un frustolo di strada che sta dietro la stazione per costruire un ulteriore binario e quindi l'abbattimento di barriera architettonica che abbiamo effettuato noi come Comune di Fano nell'ambito dei lavori della stazione serviva per far sì che il primo e l'ultimo binario dovevano essere quelli di arrivo e partenza dei treni, mentre i due binari centrali saranno quelli di treni in transito. Da ultimo qui si parla del cimitero di Via della Giustizia, abbattimento di barriere architettoniche, anche questo è in programma, i servizi cimiteriali hanno già un progetto e nelle spese in conto capitale ci sono 80.000 euro che andranno spesi proprio per fare questo genere di lavori, quindi sia un ascensore che il ripristino delle pedane. Credo che l'etica tra le altre cose dica che con correttezza quando un argomento è già stato trattato, fare le emozioni serve a poco.